Noi abbiamo appena acquistato, eh Angelo, un appartamento a Palombara Sabina. Esatto, la mia prima casa. Sei contento nel sito della casa? Assolutamente, mi è piaciuta molto, ben tenuta. Sei soddisfatto? Sì. E come mi sono comportato io? Trasparente come l'acqua, quindi mi sei comportato benissimo, Daniele. Sei stato contento? È andato bene? Assolutamente, è andato tutto bene, finato tutto, molto soddisfatto. Ok, quindi l'abbiamo chiusa positivamente da tutti i punti di vista? Sì, esatto. Va bene, anche velocemente? Molto velocemente. Se fa bene, tanti auguri, buona vita, buon soggiorno nella nuova abitazione, non staremo neanche tanto lontani fisicamente e anche adesso sono contento. Perfetto. Ciao. Ti ringrazio. Ciao. Ciao. Grazie a tutti